Musica Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV38 che si occupa dei principali temi e delle principali attività portate avanti dal Consiglio regionale. In primo piano quest'oggi la sanità con una giornata intera in Palazzo del Pegaso dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari con screening anche per consiglieri e dipendenti. Il Consiglio regionale ha acceso i riflettori sull'importanza della prevenzione cardiovascolare con una giornata di sensibilizzazione sull'ipercolesterolemia. Consiglieri e dipendenti hanno potuto effettuare lo screening del profilo lipidico che ha incluso anche il test della lipoproteina, fattore di rischio genetico che contribuisce ad aumentare le probabilità di sviluppare patologie cardiovascolari. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di partire dal cuore delle istituzioni per sostenere strategie e interventi mirati ad affrontare la crescente incidenza delle malattie cardiache. La misurazione e il controllo di quello che noi definiamo assetto lipidico che comprende la misurazione dei livelli di colesterolo e di trigliceridi è fondamentale per determinare il rischio cardiovascolare di un soggetto, quindi la probabilità che possano verificarsi negli anni futuri degli eventi cardiovascolari. Parliamo delle patologie che pesano di più da un punto di vista epidemiologico nel mondo occidentale e quindi ovviamente una valutazione di grande rilevanza. I percolesterolemia è un grosso fattore di rischio, io lavoro in un osservatorio quindi facciamo un'osservazione partecipata e devo dire che grazie a delle convenzioni che abbiamo con le aziende sanitarie riusciamo ad acquisire i risultati del laboratorio nel pieno rispetto alla normativa sulla privacy quindi siamo in grado di valutare i livelli di raggiungimento e target. I miei numeri dicono che abbiamo da lavorare, abbiamo da lavorare, le raccomandazioni di linee guida aggiornate sono abbastanza esigenti in termini di raggiungimento di target di colesterolemia però diciamo che facendo riferimento a queste raccomandazioni una consistente proporzione di persone soprattutto a rischio alto e molto elevato non sono a target per l'ipercolesterolemia quindi dobbiamo migliorare ulteriormente la gestione dei nostri assistiti con problemi di ipercolesterolemia. Alimentazione corretta, dove corretta significa un'alimentazione che non sia troppo ricca di grassi saturi quindi dove siano limitati i grassi animali, dove siano limitati i grassi e anche gli oli vegetali cotti quindi preferire oli vegetali crudi rispetto a grassi animali o grassi cotti e con contenimento anche dei cibi più ricchi di colesterolo come possono essere ad esempio le uova questo è sicuramente un elemento che può contribuire a controllare meglio il livello di colesterolo LDL l'attività fisica in realtà non incide moltissimo sui livelli di colesterolo LDL ma ha il vantaggio di far aumentare i livelli di colesterolo HDL che sarebbe il colesterolo buono, quello che quando aumenta riduce il rischio questi fattori sono sicuramente importanti, danno un contributo però attenzione, rispetto ad altri parametri metabolici come i trigliceridi o come la glicemia il colesterolo risente meno degli stili di vita perché è molto anche sotto il controllo della genetica Spazio anche alle iniziative di cultura in Palazzo del Pegaso con il Consiglio regionale che ha promosso il treno dei lettori toscani iniziativa presentata nei giorni scorsi che porterà numerosi appassionati della lettura della nostra regione verso il Salone del Libro di Torino Partirà sabato 11 maggio dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella il treno dei lettori toscani per la prima volta la regione organizza un servizio di trasporto ferroviario gratuito con treno charter rivolto a 450 cittadini toscani per partecipare al Salone Internazionale del Libro di Torino il viaggio finanziato da Giunta e Consiglio regionale rientra tra le iniziative legate all'evento dove la Toscana come ogni anno sarà presente con il proprio stand è dal 2015 che Toscana Libri allestisce e organizza lo stand della regione toscana che nel 2017 è stata anche regione ospite quindi quella di quest'anno è un ritorno in grande stile ospiteremo 33 editori tra quelli che hanno partecipato al bando più altri che invece fanno parte di un tavolo collettivo di tutti gli editori che fanno parte diciamo del circuito di Toscana Libri quindi il nostro ruolo è un po' quello di fare da collante, da tramite tra tutti questi editori sia nella parte proprio espositiva quindi di novità e prodotti librari ma anche proprio nell'organizzazione di tutto un calendario di eventi che per i cinque giorni di Salone animerà lo stand Per noi cultura significa accesso e socialità quindi cosa c'è di meglio che andare insieme con un treno che la regione mette a disposizione di chi vorrà gratuitamente al Salone del Libro di Torino che è la versione bella del paese dei balocchi per gli amanti della lettura Noi naturalmente con Regione da circa 15 anni abbiamo un progetto attivo volontariato dei libri all'interno dei punti vendita le 40 Bibliocop che è un grande motore di partecipazione in questo caso noi supportiamo la regione attraverso una piattaforma per le prenotazioni e attraverso un contributo diretto che mettiamo a disposizione per tutti gli under 30 quindi chi ha meno di 30 anni è interessato alla cultura e vuole approfittare di questa bellissima occasione E a proposito di libri nel Palazzo del Pegaso è stato presentato il volume Firenze Lockdown che racconta i momenti più difficili della pandemia nel capoluogo toscano Il ricordo del lockdown e i primi momenti del ritorno alla normalità con le uscite in strada permesse solo con l'uso della mascherina e nel rispetto del distanziamento sociale raccontato attraverso 60 scatti fotografici in bianco e nero che mostrano una Firenze deserta quasi surreale e poi le persone che pian piano tornano protagoniste della scena è questo in sintesi il contenuto di Firenze Lockdown il libro che raccoglie il lavoro fotografico di Gianni Vannucchi svolto all'epoca della pandemia e che è stato presentato nella sala Fanfani di Palazzo del Pegaso La mia passione per la fotografia abbinata alla possibilità di poter girare per Firenze in quel periodo mi ha fatto scoprire una Firenze inedita cioè una Firenze in cui all'improvviso sembrava che fosse sparito tutto il turismo tutti i cittadini completamente vuota e quindi con la macchina fotografica sono riuscito a scoprire anche luoghi completamente vuoti che mi hanno praticamente emozionato perché sembrava a un certo punto che la città fosse tutta per me cioè che io viaggiassi per Ponte Vecchio e fosse tutto mio Piazza della Signoria fosse tutta mia e quindi questo con la macchina fotografica mi ha permesso di immortalare questo evento che speriamo non sia più ripetibile e lo stesso poi nello sviluppo del riaprire del ritornare alla normalità le persone che piano piano si sono riappropriate della loro autonomia del poter circolare tranquillamente e specialmente nei primi giorni di riapertura che si circolava con le mascherine non si vedeva più gli sguardi delle persone perché coperte le mascherine ma erano nei loro occhi che si andava a cercare quello che emozionava o almeno il riessere tutti insieme e poter comunicare tutti insieme In consiglio regionale spazio anche alle celebrazioni per il decennale della Fondazione Isola d'Elba La Fondazione Isola d'Elba ha festeggiato il suo primo decennale in Palazzo del Pegaso illustrando il bilancio delle attività svolte finora e le prospettive future Ad oggi sono 340 i soci impegnati al fianco dei cittadini e delle attività dell'Elba per accompagnare e sostenere lo sviluppo dell'isola a partire dalla qualità della vita delle persone di ogni età dedicandosi ai settori della cultura, dell'ambiente, della sanità dell'istruzione e dell'economia Capace di coinvolgere 70 tra realtà e associazioni la Fondazione ha promosso iniziative per proteggere l'isola d'Elba e aiutarla ad essere un luogo ospitale e ricco di servizi e opportunità per turisti e abitanti Diciamo che la Fondazione si occupa a tutto tondo dei problemi dell'isola delle sue necessarie valorizzazioni sotto tutti gli aspetti sociale, economico, produttivo, ambientale quindi i progetti sono molti probabilmente questa non è la sede di elencarli tutti sicuramente la cosa che è importante capire come un'associazione come la nostra che è nata per pulo volontariato da parte di persone che amano questo territorio ha trovato veramente l'aiuto spontaneo di tante persone che hanno voglia di fare qualcosa per la propria terra per la propria isola che proprio perché isola delle particolarità che devono essere in qualche modo esplicitate per essere trasmesse nel giusto modo anche al di fuori altrimenti è una realtà che rischia di non essere compresa anche nelle sue grandissime potenzialità è un po' il nostro obiettivo quello di uscire dai confini dell'isola per portare sempre nuove opportunità anche nel settore del sociale della cultura quelli che sono i temi dell'ambiente che sono i temi sui quali si sta muovendo la fondazione ormai da dieci anni quindi sono contenta di essere qua in Regione ma sono anche molto contenta che sia il decennale di questa fondazione che è nata dieci anni fa e quindi noi onoreremo questo compleanno e anche questa attività che abbiamo svolto in questi dieci anni con delle iniziative che faremo a Portoferraio il 4 di maggio e oltre ovviamente a invitare i soci 340 della nostra fondazione vogliamo anche invitare tutte le persone che vogliono avvicinarsi a noi all'isola d'Elba alle nostre attività Chiudiamo con lo sport un premio speciale in Consiglio regionale consegnato all'Associazione Sportiva Dilettantistica Box Mugello per i risultati ottenuti nel 2023 e non solo Il Consiglio regionale ha premiato la Box Mugello per il primo posto nazionale tra le società organizzatrici nell'ambito del pugilato ma anche per il prezioso contributo a tutto lo sport toscano e per gli importanti risultati ottenuti nel corso del 2023 è stato il presidente dell'Assemblea Toscana a consegnare il riconoscimento ai rappresentanti del sodalizio sportivo toscano È una grandissima soddisfazione che ci ripaga di un impegno ormai più che quarantennale ma che in particolare l'anno scorso ci ha visti protagonisti nell'organizzazione di eventi pugilistici che appunto ci ha portato ad essere la prima società in Italia nella speciale classifica della federazione pugilistica italiana e appunto ci ripaga di tantissimi sacrifici tenuto conto che l'anno scorso abbiamo organizzato 24 manifestazioni in un anno quindi una media di una ogni 15 giorni che hanno comportato un grossissimo sforzo non solo economico ma anche soprattutto umano e psicologico perché comunque la società è piccola però ciò nonostante siamo riusciti a tenere il passo delle grandi società delle metropoli italiane La società nostra è stata fondata nel 1982 è sempre stata fra i primi posti in Italia e quest'anno addirittura ci siamo classificati primi nell'organizzazione e tanta roba perché aveva fatto aveva organizzato 24 manifestazioni nell'anno precedente questo riconoscimento penso più che meritato ci aspettiamo dal territorio del Mugello e del Borgo San Lorenzo una soddisfazione in più come viene riconosciuta qui in questa sala perché ci sono dei problemi da risolvere quindi io mi auguro che il buon senso regni e vi ringrazio per questo invito in questa prima nazione Questi dunque erano tutti i principali temi trattati nella puntata della Voce del Consiglio dedicata alle principali attività dell'Assemblea Toscana l'appuntamento come sempre per la prossima settimana ovviamente su RTV38 grazie per l'attenzione e buon proseguimento arrivederci a tutti i principali